Tramvia per Sesto Fiorentino c'è l'accordo sul nuovo percorso presentato in Palazzo Strozzi Sacrati dal Presidente della Regione Eugenio Gianni insieme al Sindaco di Firenze Dario Nardella, al Sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, agli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Stefano Baccelli e del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, con la presenza della rettrice dell'Ateneo Fiorentino Alessandra Petrucci. La nuova linea 2 della Tramvia avrà una fermata che si chiama Polo Scientifico davanti alla Cappella Madonna del Piano e al nuovo Liceo Agnoletti. Un sistema di bus e navette all'interno del Polo Scientifico garantirà gli spostamenti degli studenti e professori. Altra novità importante è che la linea 2 del tram arriverà direttamente a Sesto Fiorentino senza interruzione del tracciato all'aeroporto. Molto soddisfatto, è una mediazione, infatti io ero partito con un percorso più veloce da Sesto verso Firenze. Le esigenze che sono significativamente state quelle del Polo Scientifico ci portano a fare una deviazione, ma è una deviazione ragionevole che copre tutto il Polo, perché riesce a essere lì alla Madonna del Piano, esattamente fra quello che è il CNR e quella che è la facoltà che porta più persone, ovvero quella di chimica, e poi ce ne faremo carico come regione un piano che nel contesto del trasporto pubblico lo prevederà con linee di bussini il collegamento con tutte le facoltà all'interno del Polo. Anticipa lo sviluppo perché troppo spesso noi realizziamo infrastrutture di aree, tramviare e di altra natura per sopperire a uno sviluppo sregolato, poco pianificato, perché c'è un bisogno di infrastrutture. Questo è vero in parte, ma in parte sarà un'occasione più armonica di sviluppare Sesto, il Polo Scientifico.